Alla Farmacia Mari, lo staff qualificato sa consigliarti al meglio sui prodotti dedicati alla bellezza della persona. Approfitta di queste grandi promozioni. Solo nella giornata del 21 dicembre, sconto dal 30 al 50% su tutta la linea Bioniche. E solo il 23 dicembre, sconto del 30% sui prodotti della linea Corf. Con consulenti Corf e Bioniche a tua disposizione. Farmacia Mari è vicina a te ogni giorno.